Buongiorno da BTV News. Oggi 8 agosto è San Domenico di Guzman ed è la giornata internazionale del gatto. Sono diverse le date dedicate ai mici, il 17 febbraio è la festa nazionale del gatto e il 17 novembre è la giornata dedicata al gatto nero. Ciascun paese ha quasi la sua data, in Italia in generale e in Europa, come ben sappiamo, il 17 febbraio. Negli Stati Uniti il 29 ottobre, in Russia ricorre il primo marzo. La data però che unisce tutti gli amanti dei gatti del mondo intero è oggi. Scelta nel 2002 da un, per così dire, concilio di associazioni animaliste, ovviamente con l'approvazione di Grand Piquet, perché agosto ci si potrebbe chiedere? Perché è il mese standard per le ferie e quindi il mese in cui aumentano di smisura gli abbandoni. Invitare la popolazione mondiale tutta a celebrare i compagni felini in un mese tanto critico, ricambiando con coccole, crocchette, giocattoli, tanto amore, tutto quello che ci offrono senza neppure accorgersene e quindi una scelta calcolata e consapevole.